ciao a tutti e benvenuti sul mio canale oggi andremo a realizzare un cappellino molto facile per la lavorazione che io ho scelto di utilizzare e anche molto molto caldo vi do un anticipo in quanto io l'ho già lavorato il cappellino eccolo qua questa volta come potete vedere io non ho iniziato il lavoro dalla parte superiore ma ho iniziato lavorando prima la fascia quindi andiamo a vedere anche una seconda alternativa di partenza e niente ecco qua questo è tutto il cappellino che io ho elaborato in questa lavorazione e poi nel corso del tutorial vi dirò man mano come procedere con la lavorazione vi anticipo che nel corso del tutorial io lavorerò su un campione e quindi non andrò a fare cioè non andrete a vedere tutto l'intero cappellino però vi darò tutte le dettagliate spiegazioni passo passo bene io per questo cappellino ho utilizzato una lana questa che è una microfibra quindi è una lana che dall'etichetta indicava di lavorare con uncinetto del numero 5 io ho utilizzato l'uncinetto del numero 5 e mezzo ma tranquillamente è una lana che va lavorata anche con un 6 6 e mezzo e anche 7 perché poi dipende anche un po dalla mano che ognuna di noi si ritrova però io ho utilizzato un mezzo punto in più per conferire un'ulteriore morbidezza poi ovviamente avremo bisogno delle nostre immancabili forbicine e un ago da lana per andare poi a fare la chiusura finare del cappellino e rifinire ovviamente tutti i fili solo un'altra cosa io ho utilizzato come potete vedere due colori quindi ho utilizzato questo che è un panna crema e poi un color dalla telecamera sembra arancione ma in realtà è un coccio e quindi mi piaceva questo abbinamento di colore e quindi ho utilizzato questi due colori ma voi volendo potete utilizzare anche un unico colore però a parere mio visto che noi andiamo a fare questi due giri di alternanza a parere mio vi consiglio di utilizzare un secondo colore a vostra scelta appunto per dare valore a questa lavorazione con la maglia bassa che viene effettuata nel corso della lavorazione poi come potete vedere io a un certo punto dopo quattro giri di lavorazione ho lavorato poi solo con il secondo colore e poi ho proceduto di nuovo con il color crema ovviamente anche questo è sempre soggettivo bene allora se siamo pronte io direi di andare al tutorial allora partiamo facendo il primo cappietto che in questo caso io non lo stringo ma lo conto come catenella ed avvio 8 catenelle appunto quindi una due tre quattro cinque sei sette e otto a partire dalla seconda catenella quindi questa è la prima entro nella seconda e mi lavoro un punto basso per ogni catenella avendo avviato 8 catenelle alla fine noi ci ritroviamo sul lavoro giusto sette punti bassi questi sette punti bassi praticamente saranno l'altezza che andrà a conferire la fascia del cappellino ecco qua a questo punto stringo anche un po il cappietto di avvio in modo che blocchiamo anche il lavoro adesso filo sull'uncinetto faccio una catenella e giro il lavoro come potete vedere la lavorazione si presenta con le due asoline ora noi da questo giro in poi e per tutta la lunghezza che servirà per elaborare la fascia andremo a lavorare sempre il punto basso in costa quindi io entro qui nel centro del punto vedete una e due sono le due asole che compongono il primo punto basso quindi io entro nel centro e vado a prendere solo l'asolina esterna aggancio il filo e mi lavoro il primo punto basso vado nella prossima quindi io entro qui nel centro e mi lavoro il punto basso e faccio così per tutti i punti disponibili tranne che l'ultimo allora l'ultimo punto non andremo a prenderlo in costa ma lo prenderemo per intero perché lo prenderemo intero perché in questo modo ci conferirà una lavorazione dritta in entrambi i lati e pulita quindi questo è l'ultimo punto vedete una e due asoline è un po nascosto il punto però poi vedete che man mano che andrete avanti con la lavorazione si identifica identificherà sempre di più quindi io prendo entrambe le due asoline nell'ultimo punto vedete una e due e chiudo di nuovo catenella giro il lavoro e riparto entrando qui nel primo punto a disposizione quindi questo sempre in costa davanti vedete in questo modo andremo a lavorare tutti i punti che ci ritroveremo nel corso del lavoro in costa davanti tranne l'ultimo punto perché in questo modo conferirà ripeto una lavorazione più pulita ecco sono giunta all'ultimo punto quindi io entro prendendo entrambe le due asoline e chiudo ecco qua in questo modo noi avremo un effetto tipo ondulato per quanto riguarda tutta l'intera fascia ora il capellino che ho lavorato io praticamente è un capellino che corrisponde a una circonferenza di 54 centimetri circonferenza della testa a 54 centimetri noi dobbiamo andare avanti con giri di andata e ritorno così come vi ho appena fatto vedere in questo momento fino a raggiungere i centimetri desiderati della circonferenza che ovviamente serve un piccolo consiglio se la circonferenza per esempio nel mio caso la mia circonferenza è 54 centimetri io non ho lavorato tutti i 54 centimetri perché altrimenti la fascia verrebbe molto larga e quindi rischiamo che il capellino venga troppo largo sulla parte frontale quindi ci dobbiamo attenere minimo 3 centimetri al di sotto della circonferenza di cui a noi serve lavorare il capellino quindi io la mia fascia l'ho praticamente lavorata per 51 centimetri quindi mi sono attenuta 3 centimetri al di sotto perché questa è una lavorazione che renderà la fascia molto elastica quindi con l'andare ovviamente del tempo questa parte poi tenderà ad allargarsi e quindi accedere e ovviamente poi a non mantenere più il giusto equilibrio sulla testa quindi andiamo avanti con la lavorazione di andata e ritorno con maglie basse in costa per i centimetri desiderati ovviamente della misura che ci serve e poi proseguiamo allora io ho fatto pochi centimetri di lavorazione giusto proprio perché vi ricordo sto effettuando un campione quindi immaginiamo che siamo arrivati ai centimetri stabiliti che servono per elaborare la circonferenza a questo punto andiamo ad unire la fascia e io faccio in questo modo allora questa è la parte che noi abbiamo praticamente l'asola dove siamo andati a fare la lavorazione e questa è la parte iniziale quindi io faccio in questo modo sulla parte del rovescio mi giro la lavorazione in questo modo ovviamente vado a mettere insieme queste due parti quindi entro con l'uncinetto nella prima asolina questa che è il primo punto dove noi abbiamo avviato il lavoro vedete io ho lasciato ancora il filo poi cosa faccio? entro nell'asola dove io ho attaccato ancora il filo e lo passo verso di me in questo modo e poi faccio una catenella in questo modo poi entro nel secondo punto questo della prima parte così e poi vado a prendere entrambe le due asoline del punto corrispondente ecco qua così in questo modo entro prendo il filo e faccio un punto bassissimo così quindi vado nel prossimo della prima parte entro prendendoli due asoline della parte del davanti e chiudo con un punto bassissimo e procediamo in questo modo per tutti i punti fino a chiudere completamente tutta la riga una volta che abbiamo terminato la cucitura quindi abbiamo unito le due parti la lavorazione si presenterà in questo modo ora senza spezzare il filo e nient'altro semplicemente andiamo a girare sulla parte del dritto la lavorazione in questo modo ed ecco che la cucitura è talmente così identica alla lavorazione che noi abbiamo effettuato nel corso della fascia che neanche si vede dove abbiamo iniziato e terminato il lavoro bene a questo punto adesso possiamo iniziare con il punto prescelto per la lavorazione della lunghezza del cappellino allora partendo dal punto in cui ci troviamo ci alziamo di tre catenelle le tre catenelle vanno a sostituire la prima maglia alta filo sull'uncinetto entriamo sulla prossima maglia e lavoriamo un secondo punto alto andiamo sulla prossima e lavoriamo un terzo punto alto una volta che abbiamo lavorato le prime tre maglie alte facciamo una catenella di separazione filo sull'uncinetto saltiamo un punto di base e andiamo in quello successivo e da qui ripartiamo lavorando tre maglie alte la prima la seconda e la terza qui catenella catenella di spazio salto un punto vado in quello successivo e riprendo a lavorare le tre maglie alte la prima la seconda e la terza allora come avete potuto ben notare le tre maglie alte noi le andiamo praticamente ad effettuare qui su questa zona questa è la prima maglia alta la seconda la andiamo a fare appunto nella parte centrale e la terza corrisponde a quest'altra parte che risultano praticamente in rilievo quindi questa e questa sono le due maglie basse che noi siamo andate praticamente a lavorare in costa durante la lavorazione della fascia quindi le tre maglie alte andranno a lavorare una su questa zona la seconda sulla maglia bassa che risulta un po' più in un po' più schiacciata diciamo e la terza sulla prossima che viene in rialzo poi ovviamente questa la andremo a saltare e faremo la catenella e riprenderemo a lavorare le tre maglie alte la prima qui la seconda qui e la terza qui e faremo questo per tutto il giro quando arriveremo alla fine della riga faremo la catenella di spazio salteremo ovviamente la maglia di base e poi andiamo a chiudere sulla terza catenella quindi questa e andiamo a chiudere con un punto bassissimo in questo modo ora la seconda sequenza che andremo ad effettuare la faremo in questo modo con dei punti bassissimi raggiungiamo lo spazio della catenella quindi andiamo sulla prossima maglia e facciamo un punto bassissimo un secondo e un terzo ora questo secondo giro se voi preferite farlo del secondo colore come ho fatto io nel mio cappellino a questo punto farete un cambio colore e partiamo in questo modo andiamo a fare 4 catenelle 1 2 3 3 e 4 4 catenelle perché la prima sostituisce il punto basso e le 3 invece faranno da spazio ora saltiamo i 3 punti 1 2 e 3 entriamo con l'uncinetto nello spazio della catenella del giro sottostante e facciamo un punto basso ripetiamo 1 2 3 catenelle di spazio saltiamo le 3 maglie andiamo nello spazio della catenella e facciamo un punto basso e procediamo in questo modo per tutto il giro arrivati a fine del giro entro con l'uncinetto nella prima catenella effettuata e vado a chiudere con un punto bassissimo a questo punto con un punto bassissimo entro nello spazio delle 3 catenelle in questo modo e ovviamente vado a rifare il cambio colore cioè vado a riprendere il primo colore quello che noi abbiamo utilizzato per la partenza del primo giro quindi non andrete a spezzare il filo di volta in volta ma ve lo porterete incolonnato all'interno del cappellino ogni volta che faremo un cambio adesso andiamo a fare ovviamente il primo giro quindi ci alziamo di 3 catenelle che ci vanno a sostituire la prima maglia bassa la prima maglia alta scusate quindi 1 2 e 3 poi rientro nello spazio delle 3 catenelle e vado a lavorare le 3 maglie alte catenella di separazione filo sull'uncinetto vado nel prossimo archetto di 3 catenelle e ripeto le 3 maglie alte quindi 1 2 e 3 perfetto e procederemo ovviamente con questa lavorazione per tutto il giro e una volta che abbiamo completato ovviamente anche questo giro nel giro successivo andiamo a ripetere il giro degli archetti quindi le 3 maglie basse e le 3 catenelle e la maglia bassa lavorata nell'archetto ovviamente del giro sottostante e andremo a ripetere questa lavorazione alternando i due punti quindi il giro delle 3 maglie altre e il giro delle catenelle per un totale di 16 giri quindi andremo a contare anche il giro degli archetti composti da catenelle e maglia bassa quindi faremo 1 2 3 4 e così via fino ad avere 16 giri sulla lunghezza perché questi 16 giri andanno a conferire ovviamente l'altezza del cappellino una volta che abbiamo fatto i 16 giri e quindi abbiamo conferito l'altezza al cappellino in questo caso andremo a fare l'ultimo giro che è composto dalle 3 maglie alte andremo a fare l'ultimo giro di 3 maglie alte ma senza fare la catenella separatoria quindi che cosa significa? significa che noi faremo le prime 3 maglie alte nell'archetto automaticamente andremo nel prossimo archetto e faremo direttamente le 3 maglie alte senza la catenella di separazione e una volta che poi abbiamo fatto diciamo questo giro di maglie alte 3 maglie alte in ogni archetto senza la catenella di separazione a questo punto poi andremo a fare la chiusura che poi vi faccio vedere allora immaginiamo che questo giro sia il sedicesimo giro che ha conferito l'altezza del nostro cappellino come potete vedere è tutto un unico un unico lavoro senza separazione della catenella a questo punto vi faccio vedere come andiamo poi ovviamente a chiudere la parte superiore del nostro cappellino quindi ci tagliamo un bel po' di filo lo stretto necessario che serve infiliamo il nostro ago e andiamo a fare questo tipo di lavorazione allora io entro con l'ago prendendo le due asole entro nelle asole prossime ed esco di qua rientro nelle due prossime asole e vado in quella successiva quindi una volta verso di me e una volta verso l'interno entriamo ed usciamo con l'ago in questo modo così e poi così quindi da zigzag una volta dall'interno e una volta dall'esterno e poi tiriamo quindi facciamo passare il filo ma non lo tiriamo del tutto quindi procediamo una volta dall'interno e una volta dall'esterno e questo ovviamente lo andiamo a fare per tutta la circonferenza del nostro cappellino una volta una volta che abbiamo raggiunto ovviamente il punto di avvio a questo punto prendiamo il filo e tiriamo tiriamo fino a che vediamo che tutta la parte centrale del nostro cappellino si sia praticamente del tutto chiusa ecco qua quindi in questo modo e poi con l'ago andiamo a passare tra la lavorazione in modo da bloccare definitivamente tutto ciò che noi abbiamo unito e cucito in questo modo quindi procediamo con alcuni punti di chiusura e quando ci riteniamo ovviamente soddisfatte a questo punto andiamo a bloccare con un piccolo nodino quindi facciamo passare l'ago attraverso l'asola stringiamo ancora e poi ovviamente andiamo a tagliare la lavorazione cioè il filo in eccesso ecco qua e questo ovviamente è il risultato diciamo finale della cucitura del nostro cappellino quindi io vado a riprendere ovviamente il mio cappellino in modo che vi faccio vedere meglio come è avvenuta ovviamente la parte cucita superiore del cappellino ecco qua poi ovviamente a questo punto noi sopra possiamo aggiungere se vogliamo magari anche un pompon se vi piace oppure lo possiamo lasciare anche così perché questo effetto finale che dà un effetto tipo fiore diciamo che conferisce anche una certa decorazione poi ovviamente ognuno praticamente lo rifinisce come meglio ritiene ecco qua questo è tutto il lavoro quindi io mi auguro che anche questa piccola idea sia di vostro gradimento che il tutorial vi sia piaciuto se è così mi potete lasciare un bel like e niente io vi invito ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e attivate la campanellina così vi arriverà una notifica ogni qual volta che sarà online un mio progetto io vi ringrazio per avermi seguita un bacio a tutti e vi aspetto alla prossima ciao